Ciao a tutti, questo video per parlare di come capire se lei ti ama. Ci sono tre segnali inequivocabili che fanno capire a un uomo se la donna che le interessa è innamorata o lo ama. Ce ne sono molti altri, ma qui parliamo di tre segnali inequivocabili, anche perché una donna quando ama e quando è innamorata emette dei segnali ben specifici. Uno di questi sono le emozioni, le tue emozioni e non c'è verso di sbagliarti perché le conosci, ma quelle di lei si sentono a pelle. Ci sono uomini che non sono tanto bravi a riconoscere e a sentire le emozioni della donna che amano, ma se prestano un po' di attenzione, ad esempio, possono capirlo dal trasporto del bacio, dal trasporto nel quale fanno l'amore, se già lo fate. Quindi sono segnali, sono emozioni che si possono percepire a pelle, soprattutto dal trasporto che una donna ci mette nel baciarvi e nel fare l'amore con voi. Il secondo segnale è fatto di sguardi. Gli occhi di una donna innamorata, gli occhi di una donna che ti ama, sono luccicanti. Hanno un luccichio particolare, sono elettrizzati, sono magnetici. E questo luccichio lo avrà solo quando starà con voi. Non sarà presente nei suoi occhi quando parlerà con altri uomini. Il terzo segnale, tra l'altro per quanto riguarda gli occhi, si dice appunto che quando una donna è innamorata lo si capisce dagli occhi. Quindi fate molto attenzione allo sguardo e a quel luccichio meraviglioso che tutte le donne innamorate hanno. E il terzo segnale sono le coccole. Nonostante una donna, per quanto possa essere contro le fusioni amorose, per quanto non voglia dimostrare i propri sentimenti, se vi ama ed è innamorata di voi, non potrà fare a meno di coccolarvi, di abbracciarvi, di accarezzarvi. E lo farà con il calore del suo corpo, con il contatto. E quindi questo è un altro segnale molto importante per far capire che lei è innamorata di voi. E un altro segnale sempre collegato a questo terzo, riguardo alle coccole, che darà coccole, ma le ricercherà anche da voi. Ecco, questi sono tre segnali importanti, principali, inequivocabili, che vi faranno davvero capire se una donna è innamorata di voi. Se il video vi è piaciuto mettete un like, iscrivetevi al canale della Pink, attivate la campanella per ricevere tutte le notifiche dei nuovi video. Un bacio, a presto dalla Pink. Grazie a tutti. Ciao. Ciao. Grazie.